buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul canale sono ancora qui nostra fantastica cittadina di springfield e come al solito iniziamo il nostro episodio proprio dal porticciolo allora oggi abbiamo un bel po di missioni da riscuotere e da portare avanti quindi direi di non perdere tempo di andare subito a raccimolare tutto ciò che abbiamo da raccimolare infatti qui vedete subito grassy burger parte 3 completata quindi andiamo avanti a completare tutte quante le missioni che riusciamo a completare adesso non penso che porteremo a compimento nessun evento qui parte 4 infatti vedete nessun evento è stato completato però comunque ci stiamo avvicinando quindi stiamo andando avanti verso la fine tra l'altro il livello 51 tutto quel lavoro non è ancora concluso niente raccogli due ciambelle ecco qui la nostra mamma del presidente skinner che come al solito denigra e sminuisce tutto ciò che viene fatto dal figlio in questo caso dicevo in questo caso da noi allora qui abbiamo una marea di missioni che sono state completate vediamo un pochino dove arriveremo vediamo un po come stiamo messi non male non male ragazzi decisamente non male continuiamo la nostra raccolta tra l'altro nell'ultimo episodio se vi ricordate abbiamo sbloccato l'agenzia delle entrate tra l'altro un dingo for d'acqua parte 3 missioni completata quindi abbiamo finito un evento sono contento dicevo nello scorso episodio qui un'altra missione completata abbiamo sbloccato l'agenzia delle entrate con 50 mila dollari la portiamo al livello 2 raggio di discussione aumentato io direi di farlo perché soldi ce l'abbiamo ok nuova facciata a livello 9 raggio di discussione dell'imposto è aumentato riscuoti subito quindi abbiamo riscosso le nostre imposte al livello 3 raggio di discussione aumentato 150 mila dollari in effetti comincio ad aumentare da subito però vedete il nostro raggio di riscossione è aumentato in modo tale che adesso quando schiacciamo qualcosa prendiamo anche le missioni vicine adesso io non vedo che stiamo prendendo niente però insomma penso che nel futuro accadrà quindi insomma vediamo un po qui abbiamo solo un paio di biglietti non ci resta che attendere e sperare tra l'altro devo raccimolare soldi in modo tale da potenziare sempre di più questa situazione di livelli dell'agenzia delle entrate allora 150 mila per il prossimo livello ok dovremmo aver raccolto tutto quanto ragazzi mi sa proprio di sì e quindi andiamo subito a comprare i nostri biglietti dei gratte vinci vediamo che cosa ci troveremo guardiamo un attimo è oggi mila vedoniera infatti solo 350 dollari quindi niente di che alla fine molto tranquilla come situazione vediamo un attimino che cosa abbiamo sbloccato abbiamo sbloccato bancarella della terapia per adesso non ci serve quindi la lasciamo perdere allora andiamo subito a vedere le missioni un'altra lettera di un fan ma non so leggere bene perciò non sono sicura se di un pervertito o di un maniaco devo proprio farmi furba una vita a modello partete ragazzi questa ragazza penso che avrà vita breve senza qualcuno che la guidi kangi guarda il treno vermo e finalmente possiamo tornare a casa io io aspetta so già come andrà a finire non potete tornare al vostro tempo proprio adesso credimi springfield non è tanto male è un luogo pessimo parlo per esperienza in più devo salvare la zia jinzi dall'ospito della rana tu azione ti è mai stata simpatica e se fosse felice insieme allo spirito della rana in effetti mi costringe a lavarmi dentro ogni sera per il compleanno mi ha regalato un paio di calze hai ragione la odio dai un'altra chance a springfield qui chi fa regali brutti viene arrestato col treno per io io parte 5 quindi portiamo verso la fine alla missione di io io e di kanji vediamo un attimino allora non è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato accidenti non avrei mai pensato che al mondo ci fosse qualcosa di così disgustoso congratulazioni crusty questo è il panino peggiore della storia mamma mia ragazzi non so se un complimento un insulto non so neanche cucinare la carne precotta sei stato appena bruciato come tuo hamburger ora ferma qui il tuo vecchio amico kid kid si stimerà tutto no sarà anche un ammasso fumante di spazzatura ma questa è la mia spazzatura e non la vendo a nessuno e non so ragazzi l'avrei venduto sinceramente te la sei cercata crusty burger con formaggio parte 4 quindi portiamo avanti la missione del crusty burger abbiamo completato una sfida giornaliera adesso andiamo a vedere cosa abbiamo completato tre ciambelle ok perfetto ce le prendiamo e ce le mettiamo in saccoccia che cosa abbiamo sbloccato qui abbiamo sbloccato vabbè sempre rubato i soldi ok perfetto quindi abbiamo completato le missioni adesso abbiamo praticamente soltanto ecco qui da da mandare missioni personaggi però ragazzi prima di mandare missioni i nostri personaggi allora innanzitutto qui abbiamo raggiunto i requisiti necessari per portare il condominio a livello 2 quindi lo portiamo eccolo qui condominio aggiornato più 500.000 di valore oh caspita il mio portafoglio è di nuovo troppo pieno e non si chiude presto dolcezza compriamo questo artico no papino che schifo non posso girare il mio prossimo reality show in un condominio la gente si aspetta una certa classe dalla tv verità se è esattamente quello lo scopo della tv verità inoltre bisogna di qualcosa di abbastanza grande da contenere un confessionale sottomarino mamma mia ragazzi queste ricche viziate questo tunnel verso springfield heights non aiuta certo ad avere una prima impressione positiva peccato che non esiste un modo per spostare un tunnel il tunnel può essere spostato in qualsiasi punto della montagna ricevuto 10 atti macchiato per aver completato la missione allora in teoria giorno condominio a livello 3 ok in teoria non ci viene richiesto di spostare il tunnel ma sappiamo bene perché qualche episodio fa l'abbiamo fatto che si può spostare allora per portarlo a livello 3 ci serve il caffè e un po' di poltroncine va bene poi ci aumenterà di un milione e cento che ne dici della nostra villa tesoro la piscina è dotata di delfini etero i più rari tra i delfini forse potrebbe viverci l'assistente del mio cane o il suo cane ma io morirei piuttosto che vivere in un posto con meno dei meno di due umidor per sigari lo so cosa siano ragazzi sinceramente senti dolcezza papino in una situazione difficile se non compriamo in fretta delle proprietà questa non dovrò pagare le tasse aia aia attenzione le tasse sono perché tanto stupido devono avere dei conti bancari in paradisi fiscali papino giuro che non ti deruderò spenderò io i tuoi soldi ecco sì brava una figlia prediletta costruisce una villa classica con 10 caffè ce la possiamo permettere quindi andiamo a costruire una villa classica dove però dove ragazzi dove la mettiamo la mettiamo qui o la mettiamo dietro vediamo se c'è spazio la mettiamo dietro nel caso dove sei dove sei villetta ecco sì in effetti c'è spazio quindi la mettiamo qua ok andiamo a sentire che altro vuole molti ricchi hanno dimenticato come seguire i compiti più basilari cosa non stavo ascoltando smithers ascolta per me ecco infatti la conferma è per questo che dobbiamo costruire qualcosa per gli assistenti i gestori dei fondi di garanzia in mancello professionisti e le amanti segrete dell'1 per cento stringfield art part 6 sblocca l'istituto di tecnologia per produrre dispositivi smart quindi l'istituto di tecnologia ecco ok lo sblocchiamo a 6 caffè ce li abbiamo e quindi altri 6 caffè sblocchiamo l'istituto di tecnologia però per adesso dobbiamo aspettare perché non abbiamo abbastanza caffettini per farlo quindi comunque adesso off screen mi sistema la springfield ads però penso che porterà ancora un po di tempo perché dobbiamo prima completare la città qui siamo arrivati quasi a 6 milioni di valore immobiliare dobbiamo arrivare a 25 milioni per sbloccare l'auto volante ok quindi direi che abbiamo fatto tutto per questo episodio a questo punto direi andare a fare un po di shopping ragazzi andiamo a fare un po di shopping nella nostra scatola misteriosa 30 ciambelle abbiamo l'autocarro sauro non avevo assolutamente dubbi che ci sarebbe uscito poi questo lo piazziamo qui vediamo cosa fa vabbè niente di che è abbastanza una decorazione quindi abbastanza inutile vediamo che cos'altro ci uscirà il birro in bro ok ragazzi iniziamo a ragionare solo che questo salone io direi di metterlo in quella zona che abbiamo libera tipo qui ragazzi perché tanto vedete ci sta proprio dritto vediamo un attimino come viene perché ragazzi tanto qui siamo in una zona campestre e quindi ci sta benissimo questo salone vediamo un attimino l'orlin sono proprio contenta che tu mi abbia invitato a suonare celebrità di terza fascia quindi insieme a miss springfield abbiamo sbloccato l'orlin come celebrità di terza fascia d'altro è stato molto carino l'episodio in cui c'era lei vediamo la sua missione un tempo cantare al birro in brole era il momento migliore della mia giornata ora spero solo che una delle bottiglie lanciate verso la mia testa mi porti via da questo orrore meno parlare più cantare sono troppo depressa per cantare blues se solo ci fosse un mondo ancora più triste per esprimermi che ne dici della poesia quei ragazzi siamo abbastanza depressi probabilmente a causa della loro assenza di prospettive di lavoro e della generalizzata mancanza di rispetto no jewel ha già detto quello che può essere detto in versi ehi che ne pensi della musica grangi ti fa corrugare la fronte solo dire la parola grangi 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 mi fa sentire come un bagno sporco mi sa che gli anni 90 stanno tornando di moda inoltre puoi continuare a indossare tutte le camicie acquate del tuo periodo country ragazzi questa può essere una bella idea quindi deciso fonderò un gruppo grangi ma prima ho bisogno di qualche compagno di band adesso dobbiamo trovare qualcuno come pensi di fare semplice craiglist posterò un annuncio per un barbecue in muratura lo comprerò organizzerò un barbecue e con un po di fortuna qualche potenziale componente della band si presenterà la vedo un po complicata come cosa è a prova di scemo sì infatti perché lo scemo l'ho organizzato costruisce il barbecue in muratura adesso noi ce l'avevamo mi sa 35 vediamo un attimo se ce l'abbiamo nella cassaforta no abbiamo il maiale da barbecue ecco ragazzi abbiamo il maiale da barbecue quindi dobbiamo costruire il barbecue in muratura che ci costa 100 mila adesso non lo facciamo perché c'ho 217 non so per cosa mi possono servire cos'altro abbiamo nella scatola vabbè abbiamo la trazione delle tre tigri aereo robot e la sala di magia nera però io direi che questa roba lo possiamo fare nel prossimo episodio ragazzi io concluderei qui questo episodio vi ringrazio per aver visto in mia compagnia ci vediamo nel prossimo video auguro a tutti quanti una buonissima serata e ciao a tutti ragazzi